In futuro, quando ci libereremo di petrolio, carbone e gas, continueremo comunque ad aver bisogno del carbonio. Il carbonio è essenziale per produrre molti prodotti come carburanti, farmaci, solventi, polimeri e plastiche. Un domani, quando abbandoneremo i combustibili fossili, dovremo trovare altre fonti di carbonio. La mia ricerca si concentra proprio su questo, cercare di utilizzare la CO2, l'anidride carbonica, come fonte di carbonio per generare tutti questi prodotti, impiegando elettricità a basse emissioni di carbonio. Sono molto felice e orgoglioso di aver ricevuto questo premio perché rappresenta un riconoscimento della qualità del lavoro che abbiamo svolto non solo io ma anche tutti i miei studenti, i dottorandi, i ricercatori post-dottorato e gli ingegneri che lavorano con me. E quindi un successo collettivo, pur essendo uno scienziato che proviene dalla ricerca di base, ora tutti i nostri sforzi si stanno orientando verso applicazioni tecnologiche, industriali e pratiche, anche grazie a collaborazioni con aziende. Questa è la via che stiamo percorrendo e questo premio ci conferma che questa è la giusta strategia.